L'hanno trovato! Samantha, a te pareva! Buonasera! Ma buonasera! Samantha! Mario, togliti pure quell'asciugamano, voglio vederti in tutto il tuo splendore! Ma sembro un nuovo Wanda Osiris! Ma che te ne frega, io voglio vedere Mario Hermito altro che Wanda Osiris, che sei... Guarda che splendore! Dov'è Tonni? Buonasera! Rosalinda! Ciao! Hai visto? Che bene, tu? Ma vabbè sto male! Ciao! Che belli che siete! Voglio arrivare un po' prima dell'ultima! Vipponi, vi presento Mario Hermito, nuovo concorrente del grande fratello Vippa! Vipponi, vi presento Mario Hermito, nuovo concorrente del grande fratello Vittorio 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 Vittor